buona no te va bene c'è quella troppo dolce stai dicendo latta mi sa che la prendo ma quella la caffeina quella le vitamine si comunque mette il suo codice sconto allo sconto io quella con le vitamine però non quella la bavo quella che sa di cica è troppo dolce ma le cose troppo dolci non mi piacciono Samu non è vero non è vero perché non è vero guarda se guardi anche gli energy drink che vendono al supermercato a volte sono peggio la birra tirana l'hai bevuta no non l'ho mica bevuta la birra tirana non si può che devo girare la pasta questo gli do la mescolata gli esponiamo la pasta uno ieri in chat ha scritto che gli zuccheri fanno venire l'ansia ma cosa sta dicendo ma cosa stai l'energidrico leve l'acqua sono fatti apposta per chi sta tante ore una cacata e lo so se comunque leve l'acqua non penso che così piena di zuccheri e guarda ti devo andare a prendere una tollettina e vedere cosa c'è scritto non penso che sia così piena di zuccheri e allora eh lo so però sai che non è leggevo che quando tu hai la pressione bassa tendi a prendere acqua e zucchero ma non è così buono da prendere dicono caccia in bocca la liquirizia ti piace la liquirizia perfetto questo basta questo basta questi li metto in frigo allora ci cazzo dentro il prosciutto se acqua e sale mi fai bere con un go acqua e sale da sbocco per la pressione io acqua e sale non lo bevo guarda ma dove cacchio l'hai letto acqua e sale un secondo dove l'hai letto acqua e sale allora assicura che metto via questo 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 ah ecco meno qualche foglia di eh per forza se no no io allora io acqua coi sali l'ultima volta che l'ho bevuto è stato nel 2020 quando sono andata operarmi e facevamo le air con la batteria chi c'era se lo ricorda quasi sboccavo cioè tiravo su eh no 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 non esiste guarda pesante non ce la posso fare acqua e sale è una cosa che proprio non va bene non va bene non va bene eh stiamo scherzando cioè non so voi eh ma io è un po' pesantina da bere devi essere una sirena perché le sirene bevono acqua e sale dimmi un po' ma c'era sirena come ho toccato di me ho in toccadera c'è anche la canzone sempre dentro vi date io te volvo incontrare che hai mangiato a giovedì la dori bene allora perfetto adesso assaggiamo se è pronta però non andiamo a chiamarlo un secondo che devo ancora parecchiare la tavola non so cosa pensassi mamma mia allora come secondo me ci vuole un attimo ancora ci vuole perché doveva bollire